Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Chi bazzica su questo canale dall'inizio conosce già questo caso perché l'ho pubblicato nel giugno del 2021, però il video aveva ricevuto da YouTube una restrizione, cioè poteva essere visto solo da un pubblico adulto e non che i miei video siano destinati ai bambini, assolutamente, però con una restrizione simile le possibilità che venisse consigliato da YouTube erano pressoché nulle. Inoltre temevo che il tubo potesse, non so come e non so quando, potesse chiudermi un po' il canale, lo so sono paranoica, però sta di fatto che l'ho cancellato. Quindi l'ho ripreso perché in tanti me l'avevate richiesto nel corso di quest'anno e quindi l'ho riscritto, rieditato, ho aggiunto altre cose, ho aggiunto degli spezzoni di un vecchio documentario, insomma l'ho rifatto, io ho rifatto un nuovo vestito. Per molti non sarà un video nuovissimo, però per altri sarà assolutamente un video inedito e speriamo senza restrizioni. Fatta questa lunghissima premessa, iniziamo. La nostra storia ha inizio nel 1958 e riguarda un caso che ha spaccato in due l'opinione pubblica in innocentisti e colpevolisti. E in effetti le ombre attorno a questo intrigatissimo caso sono ancora molte e a una verità processuale se ne contrappone un'altra che per oscure ragioni non ha mai trovato spazio fra le pieghe dell'ufficialità. Una verità occulta, potremmo definirla, che ha tenuto banco dagli anni 90 in poi. Benvenuti in un nuovo history crime. Oggi vi parlo del caso Fenaroli, conosciuto anche come il delitto di via Monaci. Siamo a Roma e il 1958 e l'Italia inizia a godere dei sacrifici passati. Non siamo ancora in pieno boom economico e a quel tempo in pochi possedevano la macchina o il frigorifero, la tv. Ma è comunque un periodo di rinascita dopo un durissimo dopoguerra. La nostra storia si apre una mattina dell'11 settembre 1958. In via Monaci 21, un signorile palazzo al Nomentano, elegante quartiere di Roma. Lì ci vive una famiglia della borghesia romana, i Fenaroli. Come ogni mattina, la domestica di casa Fenaroli si appresta a suonare alla porta per iniziare la sua giornata di lavoro. Solo che, inspiegabilmente, la padrona di casa non viene ad aprire. La domestica si insospettisce perché la signora è sempre molto precisa, anche negli orari, e non l'avrebbe mai fatta attendere. Forse, pensa, le era successo qualcosa. La donna così si reca dal fratello della signora, il quale scogita di accedere dalla finestra tramite una scala, che però proprio non si trova. Viene quindi coinvolto un vicino di casa, uno speleologo, Marcello Chimenti, il quale si cala con una scala di corda dal terzo piano fino a raggiungere la finestra dell'appartamento dei Fenaroli. L'uomo riesce quindi ad accedere da quell'apertura e a introdursi in casa. Si ritrova così nella cucina dei Fenaroli, e lì, riversa sul pavimento, c'è una donna, proprio lei, la padrona di casa, Maria Martirano. La donna che sembra svenuta in realtà è già morta da tempo. Ma cos'era accaduto? A un primo sguardo sembrava che la donna fosse stata colta da un malore. Si pensa quindi a una morte naturale, ma a un esame più accurato del cadavere ci si rende conto che no. Maria Martirano non era stata colta da un malore, era stata strangolata, e i segni sul cadavere indicano che la donna era stata uccisa la sera prima del ritrovamento, il 10 settembre. Gli investigatori che per primi arrivano sulla scena del crimine esaminano le condizioni del cadavere. La donna ha indosso una vestaglia a fiori, ai piedi, calza delle pantofole. La piega è fresca, così come il trucco. Anche la scena del crimine parla. Vengono ritrovati due mozzicone di sigaretta. Uno viene ritrovato per terra nel corridoio, ed è di una marca fumata dalla stessa Maria, accanita fumatrice. L'altro viene ritrovato in un posacenere in salotto, ed è di una marca differente. È probabile che la donna stesse fumando quando è stata aggredita, e che la cicca sia caduta mentre fuggiva verso la cucina, lì dove è stata uccisa. La casa è in perfetto ordine. Niente è stato spostato, a parte la presa del telefono staccata. Anche le finestre sono integre, con nessun segno di scasso. Però non tutta la casa è in ordine. Intanto nel lavello ci sono delle stoviglie da lavare. Sul letto della donna ci sono alcuni oggetti appartenenti a Maria, e poi i cassetti della camera da letto sono stati frugati. Mancano infatti diversi gioielli e una mazzetta di denaro che la donna teneva rotolata ben nascosta in mezzo agli robiti. C'è qualcosa di strano però, perché le mazzette erano due. Una da un milione e l'altra da 600.000 lire. Ne era stata trafugata solo una però. E perché se si tratta di rapina non ci sono i classici segni di chiroviste in giro per casa? Gli inquirenti raccolgono gli elementi a loro disposizione e formulano le prime ipotesi. La prima, la più lampante, pensano che la donna conoscesse il suo assassino, anzi che lo aspettasse, e che quindi lo abbia fatto entrare. Chiunque conoscesse Maria sapeva della sua ossessione per le serrature. La donna praticamente teneva sempre tutto chiuso a tripla mandata. Controllava e ricontrollava che tutte le serrature fossero debitamente sigillate. Era così impossibile che qualcuno si fosse introdotto se non dietro suo invito. E si intuisce da alcuni elementi. La sigaretta diversa nel posacenere, il suo abbigliamento, diciamo da camera, ma elegante, porte e finestre integre. Lo studio della scena del crimine a quei tempi era parziale e basato su intuizioni e deduzioni. Mancava del tutto il dato scientifico. Al massimo si potevano rilevare le impronte. Il caso quindi si presenta fin da subito un vero rompicapo. Anche perché la vittima, Maria Martirano, era una donna dalla vita specchiata. Ma è davvero così? O Maria ce l'ava qualche segreto? Ma chi è davvero Maria Martirano? All'epoca del delitto, Maria Martirano aveva 49 anni ed era sposata con Giovanni Fenaroli, un imprenditore del settore edilizio. Maria era una donna che conduceva una vita molto riservata. Una classica donna borghese degli anni 50, che trascorreva molto tempo in casa, fumando, leggendo riviste e ascoltando le operette alla radio. Non aveva tante amicizie, a parte la sorella a cui era molto affezionata. Una donna molto sola, Maria. Forse non per scelta, ma per destino. Neanche il rapporto con il marito Giovanni è idilliaco, anzi, è da tempo logorato, anche a causa dei continui tradimenti di lui. A proposito, ma dov'era Giovanni al momento del delitto? Giovanni Fenaroli, quell'11 settembre del 58, si trovava a Milano per affari e a Milano il Fenaroli ormai da qualche tempo faceva tappa fissa per la maggior parte del tempo. Difatti a Roma trascorreva solo il weekend. I due coniugi, che non avevano avuto figli, in pratica conducevano due esistenze completamente separate. A quei tempi il divorzio non era neanche legale, e poi si sa, in certi contesti la separazione non era accettabile. Si rimaneva insieme, ma si cercavano escamotage per sfuggire all'inferno domestico, e i Fenaroli non facevano eccezione. I due, pensate, dormivano ormai in camere separate. Dietro quel conformismo borghese, però, Maria celava un carattere molto ombroso e difficile. Non era una che ispirava simpatia, ecco, ma era soprattutto una donna dominante, al punto da pretendere di essere coinvolta negli affari del marito, fatto assolutamente inusuale in tempi in cui alla donna si chiedeva solo di essere una buona madre e una buona moglie. Questa sua intromissione era dovuta a una scarsa fiducia nelle capacità imprenditoriali del marito. La donna temeva che le scelte poco oculate di Giovanni potessero minare il loro tenore di vita molto alto, e a cui lei proprio non voleva rinunciare. Cercava quindi di indirizzare il marito verso affari sicuri e redditizi. Giovanni Fenaroli, geometra e imprenditore, era un cinquantenne assai schivo. Buzzati lo descrive così dalle pagine del Corriere della Sera. Uomo piuttosto basso, semicalvo, tirato a lucido dalla barba del mattino, estremamente curati i baffi, a spazzola e spioventi in giù, e freschissima, anche se un po' cafona, l'eleganza complessiva. Fenaroli, ai tempi della guerra, come molti a quel tempo, aveva investito sul campo immobiliare, come si diceva allora, si era dato al mattone, lanciandosi in diversi progetti edilizi, che con una nazione da ricostruire era diciamo come sbancare alla lotteria. L'intraprendente Giovanni in pochi anni si era costruito una piccola fortuna, ma ai tempi, per fare fortuna, ci si doveva anche un po' sporcare, e soprattutto si doveva ostentare a più non posso. Perché si sa, le apparenze contano più della sostanza. E chissà se dietro quei grandi cartelloni della premiata ditta Fenaroli non si nascondessero altri scenari. Una cosa è certa, Fenaroli aveva una vera e propria ossessione per il denaro. Il suo richiamo era irresistente, come l'eco delle sirene per Ulisse. Per l'uomo tutto iniziava e finiva con una transazione economica. Era il suo metro per giudicare tutto ed essere giudicato. Peccato che a un certo punto Fenaroli, più che soldi, iniziò ad accumulare debiti. Ma ci torneremo. Ma torniamo nell'appartamento di Via Monaci 21. Per l'ora del delitto Fenaroli ha un alibi, lo abbiamo visto, era a Milano, quindi escluso dalla lista dei sospettati. Interrogato, l'uomo dice che aveva sentito la moglie per l'ultima volta la sera del 10 settembre, intorno alle 23.30. Nel 58 comunicare con il telefono non era cosa così semplice. Esisteva la selezione telefonica attraverso la quale le chiamate venivano smistate da un centralino che trasmetteva la chiamata all'utenza desiderata. E in effetti il centralino conferma la chiamata proveniente da Milano, ma c'è anche un testimone che afferma che Fenaroli si trovasse a Milano in quei giorni. Un certo è Gidio Sacchi, e ricordatevi il suo nome. L'orario della telefonata serve agli inquirenti a stabilire grosso modo l'ora del delitto. La donna, alle 23.30, quindi, era certamente viva. Ma torniamo sulla scena del crimine. Abbiamo visto come la casa fosse in perfetto ordine. Maria era una maniaca delle pulizie e faceva venire la domestica ogni giorno a rinfrescare la casa. In quest'ordine assoluto, però, a parte i cassetti e qualcosa sul letto, qualcos'altro era stato messo fuori posto. Un raccoglitore che conteneva dei documenti, che era stato rovesciato e rovistato. C'erano carte e documenti dappertutto. Fra queste carte vengono ritrovate 13 polizze assicurative. Non è una cosa così strana, perché Fenaroli apriva polizze assicurative per qualsiasi cosa, al punto da regalarle come si regala un orologio. Scavando nella vita di Maria Martirano, però, si scopre qualcosa in più sulle abitudini di questa strana donna. Dai racconti della domestica emerge un quadro un po' meno ordinario della vita di Maria. La donna racconta che quando prendeva servizio al mattino trovava spesso i resti di pasti che, era evidente, erano stati consumati da più persone. Oppure bicchieri vuoti e stoviglie varie. La domestica, che evidentemente si prendeva qualche confidenza, ogni tanto chiedeva alla signora se avessi invitato qualcuno e Maria a volte rispondeva no. Altre rispondeva che sì, aveva invitato qualcuno, specificando i nomi. Ma la domestica, che tra una spolverata e l'altra origliava le chiamate della signora, capiva che la donna le aveva mentito. Non si sa se queste fossero fantasie della domestica, oppure se Maria Martirano voleva far credere di avere una vita mondana, non so. Tuttavia mai niente è emerso e non si è mai riuscita a risalire a questi misteriosi ospiti che pare di tanto in tanto bazzicassero nell'appartamento di via Monaci. Ma dal passato di Maria emerge un particolare del tutto inaspettato. La donna, negli anni 30, aveva esercitato la prostituzione. Un passato che Maria aveva sempre cercato di nascondere, ma che a un certo punto non è stato più possibile celare. Questo particolare scatena la curiosità dei giornali dell'epoca, che iniziano ad occuparsi in maniera ossessiva del caso della casalinga del Nomentano. Tutti ne parlano e il caso Fenaroli diventa argomento di conversazione per tutti. Sullo sfondo un'Italia gaudente che si appassiona degli scandali, dei delitti e che ricerca con avidità i particolari più sordidi. La curiosità è tale che gli inquirenti vengono quasi pressati affinché il giallo venga risolto nel più breve tempo possibile. Ma cosa è dovuta tanta curiosità? Presto detto, la donna apparteneva la buona borghesia romana e si sa più i delitti avvengono ai piani alti, più i particolari sono sordidi e pruriginosi. E questo alimenta le vendite dei giornali. Nonostante però questi nuovi elementi, le indagini non escono dal solco della situazione familiare dei coniugi Fenaroli. Il marito Giovanni, seppure escluso dalla lista dei sospettati, è comunque oggetto di indagini. Soprattutto viene scandagliato il suo giro di affari per capire se la morte della moglie non potesse essere il frutto di una vendetta trasversale. E scava che ti scava, si arriva a scoprire che nella prima metà degli anni 50 il geometra Fenaroli era riuscito ad entrare nel giro di affari della Italcasse, all'epoca leader delle partecipazioni statali. In cambio di una serie di appalti e finanziamenti, Fenaroli accetta di accorpare alla sua azienda un'impresa fortemente indebitata, la ICREA. Il tutto sembra promettere bene, gli affari procedono e c'è grande ottimismo. Poi però tutto crolla, e crolla soprattutto la Italcasse, travolta da uno scandalo tangenti. E a quel punto Fenaroli si ritrova con un'azienda piena di debiti e senza alcuna protezione politica, dato che i vertici della nuova Italcasse sono stati piazzati lì dalla parte politica avversa a Fenaroli. E che pretendono dall'imprenditore il rientro immediato di ingenti somme di denaro. Una cifra che si aggira sui 300 milioni dell'epoca. Una cifra abnorme ai tempi. Ma ricordate le 13 polizze che furono ritrovate in casa Fenaroli? Una in particolare era in possesso di Fenaroli e viene ritrovata nel suo ufficio. Quella polizza attira l'attenzione degli investigatori perché era stata stipulata da Fenaroli in accordo con la moglie Maria nel gennaio del 58. In caso di decesso di uno dei coniugi, il premio sarebbe andato ai legittimi eredi, ed era un premio sostanzioso, 150 milioni di lire. A giugno però venne fatta una variazione, anche questa firmata da entrambi i coniugi. In caso di morte di uno dei due, a incassare il premio sarebbe stato il coniugio superstite. Per gli inquirenti fu subito chiaro il collegamento. Debiti, polizza sulla vita, in pratica un momento perfetto. E c'è un particolare che sembra confermare questa tesi. Da una perizia calligrafica disposta dal PM, si scopre che la firma di Maria Martirano su quella variazione della polizza era stata falsificata. Ma non solo, tra le clausole per riscuotere il premio era stata aggiunta la morte per un video a scopo di rapina. E chi, se non il vedovo Fenaroli, avrebbe beneficiato di quel cambiamento di clausole? L'uomo, messo alle strette, conferma di aver messo lui la firma per conto della moglie, visto che i due vivevano in città diverse. Per praticità, dirà. Ma Fenaroli è solo sfortunato o incredibilmente stupido. Mettere una firma falsa e poi organizzare l'omicidio della moglie non sembra una mossa astuta. La versione di Fenaroli non convince, ma non hanno prove per trattenerlo. Lo lasciano andare quindi, ma iniziano a tenerlo sotto stretto controllo, in attesa di un passo falso, che puntuale arriva. Ricordate Gidio Sacchi, l'uomo che confermò l'alibi di Giovanni Fenaroli? Bene, Sacchi è il suo braccio destro e conosce tutti i suoi segreti, ma è anche legato a doppio filo con Fenaroli. Anche Sacchi, infatti, è fortemente indebitato e Fenaroli gli fa da garante. Il loro è un rapporto, quindi, che si misura sul filo dei reciproci segreti. Un giorno, l'uomo, in ufficio, riceve tre telefonate sospette. In ogni telefonata c'è qualcuno che si qualifica con un nome diverso e che chiede a che punto fossero le indagini. In realtà, l'interlocutore è sempre uno, ma sono le risposte a essere diverse. Sacchi è evasivo, dice e non dice. Ovviamente, l'uomo al telefono era un funzionario di polizia che aveva teso un tranello a un ingenuo Sacchi, che viene immediatamente convocato dal PM. L'uomo, dopo un serrato interrogatorio, cade più spesso in contraddizione, specialmente quando si tratta di spiegare un ammanco di un milione di lire. Sacchi inizia a vuotare il sacco e accusa Fenaroli di essere lui il mandante dell'omitido di Maria Martirano, da fidato collaboratore a principale accusatore. Fenaroli voleva uccidere la moglie per riparare al crack della sua azienda e grazie alla confessione di Sacchi, che tra l'altro viene arrestato per falsa testimonianza, anche altri individui si fanno avanti per dire la loro. Come un certo dottor Savi, contattato dal geometra, per mettere a punto un piano per uccidere la moglie. Ma sono testimonianze sincere o piuttosto estorte a suon di minacce? Il dubbio inizia a serpeggiare perché la procura voleva un nome e voleva quello di Fenaroli, il colpevole ideale, indebitato e infedele. Sacchi smonta pezzo per pezzo l'alibi di Fenaroli. L'uomo racconta che il suo capo gli aveva chiesto di prenotare un volo per Roma a nome di un certo Wolfango Rossi. Alle 18, secondo la nuova versione, Fenaroli telefona alla moglie. In quella telefonata l'uomo le dice di tenersi pronta perché quella sera sarebbe passato un uomo di fiducia a prendere certi documenti. Il nome del misterioso uomo è Raul e qui la faccenda inizia a farsi davvero complicata. Ma chi è Raul? Ed è davvero quello il suo nome? Non avendo altre piste gli inquirenti iniziano a cercare nella cerchia di persone che Fenaroli frequentava a Milano e arrivano alla famiglia Insolia. Fenaroli era stato per anni amante di una certa Amalia Insolia, morta nel 57. La donna aveva una figlia, Donatella, che il Fenaroli adotta dopo la morte dell'amante, anche se la ragazzina andrà a vivere con lo zio materno, Carlo Insolia, che nel frattempo è diventato grande amico di Fenaroli. Carlo viene interrogato insieme alla moglie e ai fratelli, ma tutti negano di conoscere qualcuno che si chiami o si faccia chiamare Raul. Viene interrogata anche la piccola Donatella che, come è normale che sia, è sincera nelle sue risposte e ammette che sì, lei lo conosce un Raul, Raul Ghiani, amico dello zio Carlo, il terzo protagonista di questa storia. Raul Ghiani nel 58 ha 27 anni, è un giovane milanese che proviene da una famiglia per bene e lavora come elettrotecnico per la Vembi di Milano. Raul è un bellissimo giovane uomo, ha alto, capelli sempre impomatati, vestiti alla moda e un sorriso aperto, quello che si dice un vivere, un ragazzo come tanti che si gode i frutti del suo lavoro. Ama andare a ballare, corteggiare le ragazze e fare bagordi in giro con gli amici. Raul vive con la madre Coltilde e i due fratelli. Quando viene interrogato non riesce a fornire alcun alibi per quella sera, perché era passato tanto tempo e poi, uscendo tutte le sere, per lui ogni giornata era praticamente uguale. Di conseguenza neanche gli amici sapranno fornigli un alibi. Raul, con sua grande sorpresa, viene arrestato con la tremenda accusa di essere il killer della Martirano. Anche Fenaroli e Carlo Insolia vengono arrestati, uno come mandante, l'altro per falsa testimonianza. Gli inquirenti hanno le idee chiare su Ghiani, un uomo a cui piace vivere al di sopra delle proprie possibilità e che ostenta una ricchezza che non ha. I soldi offerti da Fenaroli gli sarebbero serviti per continuare la sua vita da vitellone impenitente, un uomo disposto a uccidere per soldi. Ma perché Fenaroli non si affida a un killer professionista e sceglie proprio Raul? Un ragazzo di periferia, guascone e amante della bella vita? Possibile che gli inquirenti non abbiano dubbi circa l'attitudine a uccidere di Ghiani. Gli viene persino contestato l'acquisto di un abito accusandolo di averlo pagato, con i soldi macchiati del sangue di Maria Martirano. Si scoprirà in seguito che quell'abito gliel'aveva pagato a rate la madre Clotilde. Ma come sarebbero andate davvero le cose, secondo gli investigatori? Il 10 settembre, dopo la telefonata alla moglie, Fenaroli esce dal suo ufficio e si dirige ai cancelli della Vembi, in via Col di Lana, per attendere l'uscita di Raul. Alle 18 e 40 sono a bordo dell'auto in direzione Malpensa, dove arrivano alle 19 e 20. Raul prende un volo per Roma sotto il falso nome di Wolfango Rossi. Atterra Ciampina alle 21 e da lì, con un taxi, raggiunge via Monaci. Si incontra con Maria Martirano e la uccide sicuramente dopo le 23 e 30. Poi si dirige a Roma Termini, dove prende un diretto per Milano a mezzanotte e mezza. Un vero tour de force per il nostro provetto sicario, forse un po' troppo. Le tempistiche calcolate per raggiungere Malpensa suggeriscono che Fenaroli avrebbe dovuto procedere ad altissima velocità, senza considerare che ai tempi vi erano molti semafori e ben due cantieri autostradali. A peggiorare ulteriormente le cose, una pioggia battente e un divieto di sostare con la macchina alle partenze. 45 minuti per fare tutto questo sembra davvero un tempo più che risicato. È certo però che un certo signor Rossi aveva comprato un biglietto per Roma direttamente in aeroporto. Ma c'è di più, Fenaroli avrebbe organizzato l'omitido della moglie ancora prima di quel 10 settembre, il 7 settembre, ma qualcosa andò storto e si decise di rimandare. E in effetti il 7 settembre risulta che Ghiani fosse a Roma e che fosse ripartito la notte stessa e la cosa è confermata da un registro dei passeggeri, il cosiddetto foglio verde dove appare proprio il nome di Ghiani. Ma non è tutto, la mattina dell'8 settembre una spaventatissima Maria dirà alla sorella di aver sentito dei rumori la sera prima, come di qualcuno che tentava di entrare in casa. In realtà per via dell'ossessione dei ladri capitava spesso che Maria sentisse rumori strani in casa, quindi nessuno gli diede a peso. Sia Ghiani che Fenaroli negano ogni accusa. Si apre così la lunghissima stagione degli innocentisti e dei colpevolisti e succede un fatto curioso ma del tutto prevedibile. Ghiani con la sua bella faccia e i modi eleganti diventa l'eroe negativo più amato di tutti i tempi. Uno così, dicevano, non può essere un assassino. E Ghiani, in men che non si dica, diventa una vera e propria celebrità, così come altri prima di lui, dal bandito Giuliano a Vallanzasca, il berrenè. Ma che prove avevano davvero in mano gli inquirenti? Nessuna, pochi indizi, poche certezze, tanti dubbi, un po' poco per rinviare tutti a giudizio. Ma a colpo di scena, dall'archivio delle indagini saltano fuori tre testimonianze che nell'immediatezza dei fatti non avevano adestato alcun interesse e che invece adesso potevano davvero dare la svolta al caso. In particolare c'è la testimonianza di una certa reana Trentini, una guarderrobiera che il 10 settembre alle 23.30 si trovava insieme al fidanzato davanti al portone del palazzo di via Monaci 21, lo stesso dove viveva la Martirano. La donna dirà di aver visto un uomo molto alto e robusto che camminava avanti e indietro come in attesa di qualcosa. Qualche istante dopo vedrà la Martirano, con una vestaglia a fiori, andare incontro all'uomo e insieme a lui incamminarsi verso l'appartamento della donna. Quello altri non è che l'assassino di Maria. In un confronto all'americana, la Trentini riconoscerà nel Ghiani l'uomo che aveva visto passeggiare su e giù quella sera. Le cose per Raul si mettono male, ma la descrizione fisica della Trentini non coincideva perfettamente con quella di Ghiani. Ad esempio, Raul aveva un naso importante, impossibile non notarlo, eppure di questo naso reana non farà alcuna menzione. E poi la faccia di Ghiani era su tutti i giornali da settimane. Sarebbe stato facile descriverlo e sarebbe stato facile incastrarlo anche. Sì, insomma, la testimonianza di reana Trentini comincia a non essere più così solida. Ma c'è un altro testimone che entra in gioco, un certo Bernardo Ferraresi, che dirà di aver viaggiato con Ghiani sullo stesso vagone del diretto per Milano, la sera a cavallo fra il 10 e l'11 settembre. Ma l'uomo verrà smentito da un amico che viaggiava con lui e che non riconoscerà Ghiani. Per gli inquirenti è l'ennesimo buco nell'acqua. Non riescono proprio a incastrarlo questo Ghiani. Ma in loro soccorsa arriva un altro testimone, Vincenzo Barbaro, compagno di cella di Ghiani e informatore della polizia. La testimonianza di Barbaro però sembra davvero inchiodare Ghiani. L'uomo infatti dirà che i gioielli trafugati alla Martirano, nello specifico un orologio d'oro e un anello, si trovavano alla Vembi dove lavorava Ghiani. E in effetti i gioielli vengono ritrovati proprio dove aveva indicato Barbaro, dentro un barattolo su un ripiano nell'armadietto di Ghiani. Gioielli ebbene dirlo che nel corso delle precedenti perquisizioni non erano stati ritrovati. Viene il dubbio che ce l'abbiano messi dopo, forse per incastrarlo, chi lo sa. L'attesissimo processo a Fenaroli e Ghiani si apre il 6 febbraio del 1961. Fu definito il processo del secolo e per quattro mesi, accusa e difesa, si danno battaglia a colpi di testimonianze, prove a carico, smentite, confutazioni. C'erano tutti gli elementi per farne davvero il caso del secolo. Il processo si conclude nel giugno dello stesso anno con la condanna all'ergastolo per Fenaroli e Ghiani. Carlo Insolia verrà assolto per insufficienza di prove, ma in appello verrà condannato a 13 anni di reclusione. Sentenza è confermata in Cassazione. Caso chiuso, quindi, eppure tante ombre permangono in questo caso, come ad esempio la testimonianza di Sacchi, che sotto giuramento dirà di non riconoscere Ghiani, eppure era stato immortalato in una foto di gruppo, insieme a Raul e altri componenti della famiglia Insolia. Giovanni Fenaroli finirà i suoi giorni in carcere. Muore nel 75. Raul Ghiani, invece, verrà graziato nel 1984 dal presidente Pertini. Sembra tutto finito, invece no, perché nel 1994 un ex tenente che aveva lavorato per il SIFAR, Servizio Informazioni Forse Armate, contatta il giornalista Antonio Padellaro, allora all'Espresso, e gli dice «Ma la vuoi sapere la vera storia del caso Fenaroli?». Padellaro un po' ci pensa, forse no, non gli interessa questa storia, invece alla fine accetta di incontrare questo ex militare. L'uomo gli rivela che la morte di Maria Martirano era strettamente collegata allo scandalo sui fondi neri dell'Italcasse. Fenaroli, che era un imprenditore spregiudicato e che frequentava i palazzi romani, entrò in contatto con un sottosegretario di Stato del partito di maggioranza relativa. E dall'ufficio di questo sottosegretario, Fenaroli riesce, non si sa come, a sottrarre dei documenti dal contenuto esplosivo. In quel dossier vi erano le prove che un importante ente petrolifero aveva finanziato l'ascesa al potere di un pezzo importante dello Stato, un reato, quello dei finanziamenti illeciti, di una gravità estrema. Quel documento andava recuperato. Fenaroli ne fa merce di scambio e per il suo silenzio pretende una bella somma, che lo avrebbe aiutato a coprire i numerosi debiti. E proprio quando Fenaroli riesce a trovare l'accordo, qualcosa va storto perché Maria si mette in mezzo scalzando il marito che, a suo dire, non stava facendo un buon accordo. Ria decide di mandare avanti la trattativa, vuole giocare lei quella mano, alzando la posta in gioco e per farlo minaccia il marito di rivelare tutte le sue magagne, tutte dalla prima all'ultima. Il Sifar, che non vede di buon occhio quella intromissione, alla fine decide di farla fuori per impadronirsi dei compromettenti dossier. Questa ovviamente è la versione dell'ex funzionario del Sifar, un'ipotesi suggestiva senza alcun dubbio, ma rimane un'ipotesi che andrebbe quantomeno provata. Ma se davvero fosse andata così, significherebbe che due innocenti, nello specifico Fenaroli e Ghiani, si sono fatti il carcere e solo perché sono dei colpevoli ideali. Uno è bello e guascone, l'altro è infedele e pieno di debiti. E la storia, come al solito, si ripete. E si conclude così il mio video. Come ho già detto all'inizio, molti di voi l'avranno già visto, però l'ho rivisto un attimo, l'ho riscritto, l'ho rieditato e quindi non dico che come nuovo, però quasi. Per gli altri invece che non l'avevano ancora visto, che ne pensate? Lo conoscevate questo caso? Parliamolo nei commenti, vi va? Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto, iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, iscrivetevi alla pagina Instagram se volete e a presto con una nuova storia crime. Ciao!